bonjour mes amis ciao ciao a tutti buongiorno e ben ritrovati allora vi voglio far vedere un piccolo video acquisti quindi un video all ho acquistato parecchie cosine sia da aldi e sia in un negozio dove vendono di tutto tipo fanno dei outlet ci sono borse scarpe di marca ci sono ci sono di tutto anche per la casa anche cose mangerezze mangerecci scusate di ci sta di tutto e ci sta anche la decorazione per la casa insomma ci sta veramente di tutto e di più e sono tutti prodotti buoni che vendono in questo negozio quando sono non sono stati venduti nei negozi oppure per diversi motivi non sono stati venduti e li mandano in questo negozio cioè questi negozi questo negozio li acquista e poi li rivende diciamo leggermente meno caro anche se ci sono borse scarpe di marca però insomma costano ancora però molto molto di meno confronto a quando si va a comprare direttamente in un negozio in un negozio di marca allora in questo negozio ho comprato più cosine per la decorazione per la casa un po per la casa un po per la camera quindi inizio a farvi vedere prima questi allora ecco qua questa è la busta e vi faccio vedere allora ho pagato proprio pochissime queste cosine adesso ve le faccio vedere quindi iniziamo ho preso io me le prendo come arrivano eh ho preso questi due rami sono di plastica eh sono di plastica ma sono fatte benissimo vedete le ho presi due una così e una così vedete sono delle palme diciamo sì penso che sono le palme e quindi le ho pagate un euro ogni stelo ehm li ho presi diversi per non metterli uguali quindi così sono più belli eccola qua io le ho trovate molto molto carini per mettere nel vaso che adesso vi faccio vedere quindi un euro ogni stelo poi ho preso questo vasetto con questa piantina eccola qua due euro ecco ci sta scritto anche il prezzo due euro e stavano con il vasetto nero oppure il vasetto bianco io ho preso come a casa mia quasi tutto quasi praticamente quasi tutto bianco l'ho preso bianco ecco qua vedete come sta fatto bene per due euro insomma costa proprio pochissimo vedete ci sta anche qua come sta fatto con l'erbetta sta fatto proprio bene quindi questo anche due euro poi ho preso questo vaso vedete come è bellissimo io lo trovo veramente stupendo vedete un vaso sta fatto così l'ho pagato 4 euro ecco qua 4 euro e lo trovo veramente magnifico quindi è in questo vaso che andrò a mettere questi steli eccoli qua uno qua e uno qua ecco qua vedete andrà così e gli andrò a metterli nel soggiorno quindi dopo vi farò una foto una volta che li avrò fatti e vedo o ve li metto qua oppure su Instagram quindi per 6 euro ho avuto 2 euro gli steli e 4 euro il vaso che è molto molto bello io lo trovo veramente fantastico ecco proprio bello 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 mi piace molto quindi sta fatto bene quindi questo ensemble diciamo di vaso con i rame zee poi ho preso ho preso questa cantina di fiori 3 euro e 90 non lo vedete bene non si vede bene è strano che non lo vedete vediamo qua comunque 3 euro e 90 ho presa fatta con la toile de jute vedete con la raffia con non so in Italia come si chiama questa qui si chiama la toile de jute quindi fatta benissimo vedete i fiori come sono carini sono delle rose bianche proprio le ho trovate veramente molto 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 squisito questo questo vaso di fiori e quindi 3 euro e 90 che non riesco a farvi vedere ecco forse forse la forse la no non si vede sta scritto proprio chiaro comunque adesso faccio vedere quell'altro quindi ho preso questo bianco per il soggiorno e ho preso questo qua che è rosa vedete rose rosa ecco qua e questo anche 3 euro e 90 forse lo vedete ecco qua qui lo vedete meglio perché si sa scritto più spesso diciamo più scuro 3 euro e 90 allora questo lo metterò nel soggiorno e questo qui in camera sul mio sia sul mobile che ho là oppure qua sulla scrivania vedremo poi ho preso questa questo straccetto in microfibra ecco qua per togliere la polvere ecco insomma c'è una parte che si può lavare questa vedete questa più più duretta a strisce morbida e più duretta sentite e dall'altra parte è così per asciugare e adesso sono due due motivi quindi questo l'ho pagata un euro e 80 la marca vigor e poi ho preso che poi era mezzogiorno chiudevano perché quei negozi chiudono a mezzogiorno è una cosa che non riesco a capire perché i negozi di sabato chiudono il mezzogiorno comunque e quindi eravamo arrivati erano già quasi le 11 passate quindi abbiamo fatto subito subito e poi riaprono alle 2 comunque io trovo almeno il sabato dovrebbe restare aperto tra mezzogiorno e le 2 comunque e quindi stavo dicendo quindi non ho fatto proprio il negozio come si deve però prima quando è arrivata la cassa ho trovato queste ciglia finte al prezzo lo prezzo di 4 euro non si vede bene perché ecco 4 euro e la marca e lui london allora ho preso questo modellino qua ho preso light volume numero 100 ci sta la colla e so che mia figlia in italia l'ha preso la stessa marca mi sa che l'ha pagata 29 euro nella profumeria 29 euro solo un paio di ciglia quindi io l'ho trovato a 4 euro andrò a metterli e perché no un giorno vi faccio un video dove li applico e allo stesso tempo vi faccio un trucco quindi si possono usare mi sembra io e l'inglese siamo due non ci capisco niente allora vedete sta scritto così adesso chiederò a mio figlio che mio figlio conosce l'inglese bene quindi vedete l'effetto dovrebbe essere questo questo senza ciglia e questo quindi è un effetto veramente naturale ok quindi solo 4 euro quindi li proverò questo weekend se domani dopodomani se mi piacciono se non faccio allergia alla colla e se mantengono bene se non fanno se non si vedono che sono finte andrò a prendermi sicuramente ancora due come minimo due per specialmente per la colla perché io le ciglia finte ce le ho e la colla che cercavo quindi questi 4 euro speriamo che questi vanno andranno bene poi la borsa metto tutto qua da parte e poi sono andata da aldi non so se in italia c'è mi sembra che ha detto che ci sta un negozio che si è aperto verso sanremo mi sembra ma non è sicura e quindi aldi e tipo lidl ecco diciamo che è il fratello di lidl ecco la stessa vendono più o meno gli stessi prodotti più o meno gli stessi prezzi ma lo trovo ancora più economico io da aldi che confronto a lidl che trovo che i prezzi sono comunque aumentati allora per prima cosa mi sono presi allora stavano stavano quindi era la quando è stato sì erano i giorni che stavano i costumi in offerta e costumi intere allora io sempre portati i costumi a due pezzi ma quest'anno voglio mettere costumi interi non partiamo in vacanza quindi in piscina da mia figlia quindi preferisco mettermi con il costume intero e poi quest'anno ho voglia di mettermi il costume intero è molto più pratico insomma anche in piscina con i bambini è molto più pratico e evitiamo tutti che che scadappero tutto quindi molto lo trovo molto più pratico quindi allora stavano al solo prezzo di 6 euro e 99 io già avevo visto il volantino ma avevo completamente dimenticato che erano i giorni che stavano i costumi quindi sono andata a prendere dei gelati e proprio di fronte ai frigoriferi del gelato stava quindi stavano i costumi e allora mi sono ricordata e gli ho presi ho preso una taglia 46 perché io sono comunque molto per il sopra ho bisogno di una taglia più grande quindi speriamo che non è troppo grande per il resto del corpo vedremo ma sono belli elasticizzati e penso che andranno bene ok allora iniziamo con il primo il primo che ho preso è questo quindi 6 euro e 99 ecco qua questo è il prezzo ok allora se questo è questo modello qua scusate vedere e questo è il modello questo è normale con le bretelle normale quindi vediamo in italiano non ci sta mai scritto mai francese polonese tedesco ma non ci sta mai scritto in italiano quindi 80 per cento di poliamide e 20 per cento di elastane quindi elastico 20 per cento e di blu risonso anche diciamo foderato diciamo questo io non li ho ancora aperti e ho visto sulla taglia e li ho presi e quindi lo scopro con voi lo apro con voi e andiamo a vedere quindi voglio dire che se euro e 90 non andiamo mica a fare i difficili ed eccolo qua vedete piace molto ci sono le coppette ma le coppette penso che le andrò a togliere perché non le sopporto e non ne ho bisogno quindi vedete sta tutto intrecciato qua davanti adesso non so se riuscite a vederlo bene ecco qua sta tutto intrecciato qui davanti sotto il seno ci sono queste due facce fasce intrecciate questo è il costume e dietro è così scollato non tanto ma in piscina si va benissimo così ecco ok non è troppo troppo decoltè però va bene e vedete è proprio elasticizzato proprio bello elasticizzato non quell'elastico sottile ed è proprio sì quindi non so cosa come sarà su di me però penso che andrà bene quindi vedete mi è piaciuto molto questo quindi questo è il primo adesso vi faccio vedere il secondo sempre nero ma un po più chiaretto ed ecco qua sempre 6 euro e 99 taglia sempre 46 e l'ho preso questa fantasia qua vedete boh diciamo no zebrato no un po leopardato nero e bianco e questo modello si lega dietro il collo quindi la scollatura dietro è più profonda diciamo adesso vado ad aprirlo con voi come ho detto non li ho aperti ecco qua e ok andiamo a vedere anche perché era tardi quando siamo andati quindi li ho presi avevo i gelati non potevo tanto guardare bene li ho presi ho detto dai vada che vada sono solo 6 e 99 e questo è quello wow bello mi piace molto vedete ci sono uguale sempre le coppette foderate che si possono anche togliere penso che si possono togliere no non si tolgono ma io comunque andrò sempre ad aprire un po' di lato se voglio toglierle e questo è il costume mi piace moltissimo vedete la fantasia è molto bella ed è fatto così e dietro è bello tutto a decoltè vedete più aperto di quell'altro la scollatura è molto più profonda ok vedete vediamo un po' vedete andrà così sì mi piace mi piace mi piace quindi anche questo bello elastico vediamo un po' no in italiano non c'è scritto si leva a 40 gradi ecco qua non vuole mettere a fuoco sì ecco ok anche questo mi è piaciuto quindi adesso bisogna solo provarli per vedere se mi vanno oppure no ah ecco vedi che carino vedi vedete un po' ci sono anche queste perline rosse diciamo dove si legano sta fatto proprio bene proprio le finizioni stanno fatto bene vedete adesso la faccio vedere vedete all'interno le finizioni sono perfette sì 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 mi piace molto vediamo un po' qui sì ok quindi anche questo va bene e adesso vi faccio vedere l'ultimo l'ultimo allora è più chiaro l'ultimo è questo adesso lo faccio vedere tadaaa è celeste ma invece no è molto più scuro e mi piace molto di più è un bel tour case anche questo si frena 99 questo si ha si lega dietro il collo con il laccettino ecco questo il modello e adesso andiamo a metterlo pure ecco qua vedete il colore è stupendo è un turchese ma veramente bello bello ed ecco qua questo è il turchese vedete sta fatto così questo è il dietro quindi ci sta ecco non sapevo nemmeno che stava vedete sta come una fascia come se fosse un un reggisino a bando e davanti sta fatto così sta fatto benissimo veramente veramente bello mi piace molto il colore è stupendo è un turchese veramente bello 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 veramente mi piace moltissimo stanno fatti benissimo le finizioni dentro sono fatti benissimo ah ecco vedete qui si può togliere quell'altro no comunque non ci sono problemi io dopo se li voglio veramente voglio togliere vedete escono le coppette è strano che quell'altro non può uscire comunque vedete questo è il costume che ne pensate vedete la fantasia com'è bella è veramente spettacolare il colore proprio color turchese color del mare anche se quest'anno non andiamo al mare però vabbè bellissimo bellissimo sono contentissima ok questi sono quindi i miei tre costumi e per finire stavano dei libri in offerta anche e mi sono preso un libro l'ho visto più o meno così insomma non lo conosco gli amanti infedeli di Jackie Collins quindi più sexy più calde più scandalosi che mai vedremo ecco questo è il libro ci sono un bel po' da leggere e ho pagato solo 3 euro 3 euro e 99 perché i libri sapete i libri costano come minimo 17 19 20 25 quindi 3 euro e 99 è proprio pochissimo con più di 400 milioni di esemplari venduti in 49 Jackie Collins è una delle romanziere più più lette al mondo vedremo non la conosco non conosco l'editrice non conosco la scrittrice però andrò a leggerlo e quindi questo è l'ultima cosina che avevo preso da Aldi quindi ragazze questo video termina qui io riprendo i miei costumi e ve li faccio rivedere eccoli qua sono veramente belli sono contenta tutti questi costumi sono veramente bellissimi ecco dal nero al bianco e nero e se lo mettesi dall'altra parte fosse meglio il bianco e nero e il turchese questi sono veramente acquistini che mi sono piaciuti moltissimissimo ecco qua che ne dite? vi piacciono? fatemi sapere che ne pensate dei miei costumi e di tutti questi miei oggettini che ho comprato questo a me è piaciuto molto quindi andrò subito a metterli e niente ragazzi questo video termina qui abbiamo fatto due chiacchiere insieme ditemi voi se l'estate andate in vacanza se andate in vicina se andate in vacanza al mare se avete già fatto la prova costume se insomma mettete i costumi interi costumi a due pezzi io quest'anno non me la sento proprio di mettere interi ho preso qualche chiletto qualche chiletto l'ho preso perché con purtroppo siamo stati ancora un mese chiusi mese di tra marzo e aprile quindi ancora lockdown per un mese quindi insomma penso come tutti abbiamo preso qualche inchile in più quindi questa non me la sento proprio di mettermi in due pezzi e niente ragazzi io vi lascio ragazzi e ragazze io vi lascio spero che questi video i miei video vi piacciono mettete un like come al solito condividete i miei video sui vostri social e io ringrazio tutti i vecchi e i nuovi che vi siete abbonati che vi siete iscritti al mio canale se volete essere informati dei miei video quando vanno online schiacciate sulla campanellina così sarete informati dei miei video quando saranno online niente ragazzi io vi lascio vi mando un bacione grande grande e vi dico alla prossima ciao bye